Fabio Turchi ragazzi ha appena fatto uno dei match più importanti della sua carriera e purtroppo le cose non sono andate come sperava e come speravamo tutti noi Hola a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a parlare dell'ultimo match del nostro italiano Fabio Turchi che ieri sera si è giocato un match veramente veramente molto importante per la sua carriera l'avversario di Fabio Turchi ieri sera è stato l'inglese Richard Riakpor un pugile di 32 anni con 14 match e 14 vittorie quindi stiamo parlando di un pugile imbattuto sulla carta in teoria doveva essere in vantaggio il nostro Fabio Turchi che aveva qualche match in più, 22 match di cui 20 vittorie quindi di conseguenza anche un po' più di esperienza rispetto al fighter inglese tuttavia ragazzi sapevamo che il Riakpor sarebbe stato un osso duro e non solo per la sua stazza che era veramente gigante un pugile veramente gigante ragazzi oltre un metro 95 con delle leve veramente lunghissime e come se non bastasse ragazzi con il colpo da K.O. ebbene sì i suoi colpi facevano veramente tanto male e su 14 match sono state ben 11 le vittorie per K.O. grazie alla sua potenza, grazie al suo K.O. power ma perché dico all'inizio del video che sarebbe stato uno dei match più importanti nella carriera di Turchi ebbene ragazzi questo match era un match ad eliminatorie quindi chi vinceva questo incontro aveva la possibilità di andare avanti e competere per il titolo mondiale IBF dei Paisi Cruiser purtroppo match che non è andata come speravamo non solo Fabio non è riuscito a portarsi a casa questo match importantissimo per la sua carriera ma l'ha anche perso in una maniera veramente veramente tanto brutta ma adesso andiamo un po' per ordine la prima ripresa diciamo che è stata una ripresa molto di studio una fase di studio nella quale nessuno dei due pugili diciamo che è riuscito a prevalere sull'altro con Turchi che cercava costantemente di avanzare per trovare bene la sua distanza di combattimento guardia alta sempre ben chiuso cercava di muoversi sempre per non lasciare mai un bersaglio fisso all'avversario molto probabilmente conosceva la potenza dei colpi di Riakpor e non voleva rischiare pertanto sempre chiuso sempre in movimento cercava di avanzare per trovare bene la sua distanza dall'altra parte Riakpor sfruttava molto bene la distanza con la sua stazza con questo jab lunghissimo questo allungo veramente incredibile e portava avanti sempre il suo jab non come colpo ma più come spinta per tenere sempre distante Turchi per non lasciarlo partire con le sue combinazioni tutta la prima ripresa diciamo che è andata proprio in questo modo l'inizio della seconda ripresa è andata più o meno nella stessa maniera della precedente di nuovo fase di studio Turchi che avanzava l'avversario che lo teneva lontano con il suo jab con il suo braccio fino ad un certo punto quando Riakpor ha portato la sua prima e unica combinazione in questo match due colpi con l'ultimo che è stato un montante al fegato di Fabio Turchi che lo ha preso di striscio colpo però che è bastato per piegarlo e farlo cadere a terra ora però detto sinceramente non vi so dire se quel colpo Turchi non se lo stesse aspettando quindi è stato un colpo a sorpresa oppure fosse veramente così tanto forte fatto sta che sono bastati solamente questi colpi per mettere giù il nostro italiano e farlo così contare dall'arbitro il match però non è finito in quel momento perché Turchi verso la fine del conteggio è riuscito a rialzarsi e pertanto voleva continuare la gara il problema però quale è stato è che dall'angolo di Turchi hanno gettato la spugna e hanno stoppato il match detto sinceramente questa azione a me è sembrata un po' troppo azzardata soprattutto dato che si trattava di un match veramente molto importante per la carriera di Turchi e in questo modo diciamo che gli è stata negata la possibilità anche di provare a fare qualcosa per ribaltare le sorti di questo match dall'altra parte però posso anche capire questa azione dall'angolo angolo tra l'altro composto dal padre di Turchi che ha cercato comunque di tutelare la salute di Fabio prima di tutte le altre cose alla fine del conteggio diciamo che Fabio non aveva recuperato sicuramente le forze pertanto il match sarebbe potuto andare veramente molto male con l'avversario che si sarebbe sicuramente scagliato con tutti i suoi colpi più forti al 100% della sua potenza e questa cosa avrebbe potuto portare a grossi danni per Turchi però questo ragazzi purtroppo non lo sapremo mai perché Fabio non ha avuto la possibilità di rialzarsi riprendere il match e dimostrare se era in grado oppure no di portare avanti questo match contro l'avversario inglese per me dal mio punto di vista questa spugna è stata lanciata un po' troppo in fretta e soprattutto per un match di così grande importanza nella carriera di Fabio fatemi sapere comunque voi sotto nei commenti cosa ne pensate se è giusto quello che è successo se è stato giusto l'intervento dell'angolo di buttare la spugna oppure anche voi avreste lasciato continuare questo match vista l'importanza di questo incontro scrivetelo sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video oi